Centri per l'impiego, disservizi e soprattutto situazione contrattuale e mancato pagamento ai dipendenti a tempo determinato sono i temi su cui il Presidente della provincia di Campobasso De Matteis ha voluto fare dei chiarimenti ricordando la subconvenzione firmata con la Regione per la loro gestione e la proroga ai dipendenti in questione e puntando l'indice contro il dirigente al settore. Un dirigente che a mio avviso non è più dirigente della provincia ma è dirigente della Regione tanto è vero che la Regione lo ha delegato anche per i centri dell'impiego di Sernia si ostina dopo aver messo nella delibera del 13 aprile parere contrario sulla proroga e la Giunta si è munita di un parere di un professore universitario che smentiva quello che diceva il dirigente dei centri per l'impiego per la proroga si rifiuta di voler fare l'impegno di spesa e di dare le direttive per quanto riguarda i profili professionali e il numero dei dipendenti perché il nostro dirigente del personale, il dottor Fratangelo possa procedere alla stipula dei contratti. Siamo fermi, solo il primo luglio ci ha fatto pervenire un'altra nota dove ribadisce la illegittimità della delibera e anche dei risvolti penali. Aspettiamo la sentenza per quanto riguarda un vecchio ricorso per la validità o meno del concorso che fu fatto tre anni fa ma anche quello che avevo chiesto io come provincia al giudice per quanto riguarda di decidere e dirci chi doveva fare questi contratti. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse poi? La Regione ci deve trasferire i fondi per la gestione e per il personale dei centri dell'impiego sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato e ci sono dei ritardi notevoli. La Regione aveva scritto al Ministero e il Ministero ha detto ma se non ci mandate le coordinate Libam noi non vi possiamo accreditare questi soldi. Se la provincia non ottempera gli obblighi assunti, ha detto il consigliere regionale delegato Micone, la Regione si vedrà costretta ad avocare a sé tutta la gestione dei servizi per il lavoro. A mio avviso si dovrebbe vergognare di accusare un ente dove lui è stato, dove ha ricoperto anche l'incarico di assessore alle politiche del lavoro, e dove gli è stato consentito di essere eletto e di stare e sedere nei banchi del Consiglio regionale. Quello che dice sono tutte bugie. De Mattessa ha anche incontrato frattura. Il Presidente pensa di poter approvare una legge regionale per inquadrare questo personale come a mio avviso si doveva fare nel mese di febbraio. I tempi saranno piuttosto lunghi a mio avviso.